E' un zionario dell'arte, è bellissimo! E' un zionario dell'arte, che che manca? Mi sapevo che mi ha scoperto un livello di vita, una volta di vita. Ma comunque la ricerca ragazzi è molto importante anche nell'arte. Ricordate l'arte di prima? E' un zionario dell'arte, è un zionario dell'arte, è un zionario dell'arte. Anche i genitori, eh? Non c'è, non c'è, non c'è. Ma che? C'è un zionario dell'arte dei mani? Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Grazie. Grazie. Bravo! Grazie a tutti. Grazie a tutti.